Ciao amici, sempre Marilu qui con voi per vedere alcuni nuovi passettini per le line dance. Oggi dopo aver visto il vine e il grapevine, guardiamo com'è il rolling vine. Quindi è un passo in quattro tempi che eseguiamo girando a 360 gradi. Pronti? State attenti. Apro col destro, in questo caso perché faccio un rolling vine verso destra. Giro, apro di nuovo e torno sulla linea di ballo e chiudo. Se questo passo devo eseguirlo verso sinistra, la stessa cosa partendo lateralmente a sinistra. Apro, giro, apro e chiudo. Questo è un rolling vine, è un passo come avete visto in quattro tempi. Adesso lo andiamo a vedere di spalle. Attenzione, farò un rolling vine verso destra. Uno, due, tre e chiudo. Verso sinistra, uno, due, tre e chiudo. Questo, come avete visto, è semplicemente un rolling vine. Ciao amici, ci vediamo al prossimo step.